Vai, 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 filmala, vai, vai, sei pronto, treno? Ci siamo tutti, ci siamo. Un saluto per Italia 1, treno? Il prossimo è Marturana, è l'ora! Vai Marturana, vai Marturana! Tutti insieme Marturana, è l'ora! Tutti insieme Marturana, è l'ora! Il pubblico è l'ora, è l'ora! Quali sono gli uomini? Chi si vuole sedere, signori? Quali sono? Il prossimo è l'ora, vai Goya! Vai Goya in Goya, Goya! Attenzione che c'è una concorrente, signori! Alice nel paese dell'erba luce 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 Alice nel paese dell'erba luce